Pasqua in musica grazie alla Bellagio Festival Orchestra, due concerti in programma per l'assemble musicale che porterà sull'ario le note dei capolavori della musica classica. Si parte mercoledì 13 aprile a Perledo. Due appuntamenti speciali per queste festività pasquali. Uno è l'esecuzione di un capolavoro a Edniano che realizzeremo in Chiesa di San Martino a Perledo il 13 aprile alle ore 21. In realtà 20 e 45 ingresso inizio ore 21, ingresso assolutamente libero con le ultime sette parole di Cristo di Haydn. È un lavoro bellissimo che è fortemente impregnato di quella che è l'atmosfera pasquale naturalmente. E dall'altra parte invece, in questo ci aiuterà il quartetto Vittadini, mentre nell'appuntamento del 18 è un appuntamento particolare perché è l'appuntamento che realizzeremo nella storica Basilica di Bellagio, quindi nella Basilica di San Giacomo con la Bellagio Festival Orchestra. È un appuntamento dedicato alla grande musica, ma in particolare avremo una presenza importante del flauto con la presenza del maestro Nova come solista e l'esecuzione del concerto di Donizetti e di Mercadante e contemporaneamente un omaggio al grande Rossini con il repertorio delle sonate A4 di Rossini realizzate in versione orchestrale per orchestra d'archi. Anche in questo caso l'ingresso è assolutamente libero con naturalmente semplicemente l'uso della mascherina e vi aspetteremo alle ore 21. È una maniera diversa per poter festeggiare la Pasquetta. Normalmente siamo all'esterno, benissimo, però alla sera ritorneremo alle nostre case e quindi possiamo sicuramente approfittare per godere un appuntamento con la grande musica e con il grande repertorio. Noi vi aspettiamo e saremo felici di rincontrarvi tutti.